Al centro dei lavori dell'Assemblea lo stato dell'arte del programma GOL, ovvero Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, finanziato con i fondi del PNRR, 407 milioni di euro che coprono il periodo 2021-2027. Lo scopo è quello di favorire l'incontro, domanda, offerta di lavoro e qualificare le persone disoccupate e inoccupate affinché possano acquisire nuove competenze spendibili nel mercato del lavoro. A coordinare il tutto il CENFOP Abruzzo, presieduto da Nazareno Padovani. Siamo un'associazione riconosciuta che ad oggi raggruppa circa il 30% degli organismi di formazione della regione Abruzzo e con circa anche 1.500 operatori che a vario titolo collaborano quindi fra tutti quanti e ci proponiamo come confederazione di raccordo di un sistema integrato della formazione professionale che parte dalle istituzioni, quindi dalla regione, comunque dal ministero, dalle regioni per arrivare fino all'esigenza del territorio. Il CENFOP si propone quindi e ha le potenzialità e le capacità e le competenze per fare da ponte tra la programmazione regionale quindi di settore e diciamo le varie esigenze del mercato del lavoro territoriali. Dottoressa Bucco possiamo dire magari in maniera così un po' semplicistica poi lei articolerà meglio che la formazione deve necessariamente rispondere ai bisogni delle imprese. Esattamente questo è il punto e quello che ci prefiggiamo con l'attuazione del programma GOL. È un programma proprio di riforma delle politiche attive del lavoro. Siamo coordinati dal ministero e agiamo su linee di indirizzo della comunità europea per la prima volta in assoluto. Non agiamo da soli come regione ma nell'ambito di un'indicazione generale che vuole sostanzialmente un innalzamento delle competenze degli aspiranti lavoratori quindi dei disoccupati e una riqualificazione dei lavoratori che sono a rischio di esclusione. Quindi è un programma che si gioca sulla valorizzazione e l'implementazione delle competenze. Chiaramente l'ambizione e l'obiettivo strategico di tutto il nostro fare è quello di agire in rete, di combinare il sistema pubblico con il sistema privato delle agenzie per il lavoro, degli organismi di formazione perché il fabbisogno effettivo delle imprese sia conosciuto, sia chiaro, evidente e su questo si possa lavorare per costruire un sistema della formazione assolutamente aderente e non avulso dai bisogni come purtroppo spesso è accaduto.